9 persone arrestate, 2 denunciate a piede libero, sequestrati quasi 4 etti di cocaina, altre piccole quantità di marijuana e ashes, un'auto e 3.000 euro in contanti. È l'epilogo di un'importante operazione dei carabinieri di Forlì a cui hanno partecipato 30 carabinieri supportati da un cane antidroga e che ha visto effettuare 12 perquisizioni. Iniziata nel dicembre 2010, l'indagine ha portato alla luce un ingente traffico di stupefacenti sull'asse Vigevano-Ravenna-Forlì. Seguendo il tragitto della droga, i militari erano arrivati lo scorso gennaio ad arrestare il presunto capo dell'organizzazione, un cittadino macedone di 36 anni, bloccato a Vigevano, mentre ritirava un pacco con 330 grammi di cocaina. Con lui c'era anche la convivente, una romena, denunciata a piede libero. Le successive indagini hanno portato all'arresto di due italiani 36 anni, uno residente a Ravenna, l'altro a Forlì, e di un'albanese di 30 anni residente a Forlì. Individuati anche altri due giovani forlivesi per i quali è scattato l'obbligo di dimora. Per tutti l'accusa è a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel commentare con viva soddisfazione l'esito delle operazioni, il neocomandante di carabiniere di Forlì Cesena, colonnello Adriano Vergole, non ha però nascosto la sua preoccupazione per il diffondersi, anche a causa del prezzo, in calo delle dosi, del consumo di stupefacenti fra giovani dall'età sempre più bassa. Grazie.